e io oggi volevo introdurre la Costanza Fenis che è consigliera del quartiere 1 del comune di Firenze che ha reso possibile questi incontri insieme a noi di quattro quarti e quindi volevo invitarla a dire due parole. Buonasera a tutti, grazie a voi, io porto il saluto del quartiere 1 e della commissione cultura che ho l'onore di presiedere, siamo contentissimi di questa collaborazione preziosa con l'associazione Quattro Quarti, ringrazio il professor Zenni per questi tre incontri che ha voluto regalarci, che oltre ad essere incontri meravigliosi in sé rappresentano secondo me anche quello che deve fare la cultura oggi e sempre, cioè rappresentano quelle occasioni di ascolto, di confronto e di supporto alla conoscenza e alla comunicazione dell'evoluzione della società, no? E quindi parlare di jazz e parlare di confronto fra culture diverse è sicuramente quello che si intende. Stasera è un esempio particolare. Non vediamo l'ora. E quindi io davvero, Lucia lo sa, appena ci siamo, Lucia e Samuele mi hanno proposto questo progetto, ho reagito con grande entusiasmo proprio perché eventi di questo tipo ed eventi di questo tipo in questo rione sicuramente mi interessano molto ed è appunto tutto in linea col percorso che stiamo seguendo. Quindi grazie, grazie anche al Circolo Pescetti, vedere una sala piena veramente di grande conforto e da grande gioia dopo il brutto periodo che abbiamo attraversato. E credo peraltro che questo terzo incontro alla fine di questa settimana, dopo che qualche giorno fa ci ha lasciato Franco Cerri, sia anche un bel modo per salutarlo. E quindi grazie, grazie a tutti voi. Spero che sia solo l'inizio di una collaborazione proficua per i prossimi anni. grazie. Grazie, io ringrazio il quartiere, ringrazio il Circolo Pescetti, l'Associazione Quattro Quarti e il folto staff che vedete che organizza questi incontri. Sono veramente molto molto felice, veramente grazie davvero. Stasera raccontiamo qualcosa di molto diverso dai racconti fatti negli scorsi incontri. Parliamo di una, a proposito di incontro fra culture, anche di scontro fra culture, parliamo di come il cinema abbia, non solo trattato il jazz, avrei potuto fare una conferenza su jazz e cinema, ma c'era un problema che l'avremmo dovuta interrompere per la cena, poi avremmo dovuto farci una pennica verso mezzanotte, cioè era una cosa lunghissima praticamente, su jazz e cinema, e allora invece ho deciso di concentrarmi su un aspetto specifico ma molto significativo, esemplare di tanti altri problemi del rapporto tra il jazz e il cinema. E l'ho chiamato, poi vedrete perché, la leggenda del trombettista bianco sottinteso. Cioè in sostanza, in tantissimi film in cui il jazz è protagonista, soprattutto film biografici di musicisti reali o inventati, il protagonista, se il film è statunitense, se il film è hollywoodiano, vedremo poi non necessariamente con queste condizioni, ma dato che il jazz è stato raccontato anzitutto dal cinema statunitense e anche da Hollywood, non solo, anche dal cinema indipendente, il protagonista, punto numero uno, è bianco. Soprattutto fino a 20-30 anni fa, i protagonisti dei film sul jazz sono rigorosamente bianchi. Il motivo lo potete facilmente intuire. La discriminazione razziale è durata anche molto oltre la fase legislativa per cui la discriminazione esisteva per legge, ma Hollywood ha continuato, e credetemi per certi versi, continua a discriminare gli afroamericani, per esempio a livello di protagonisti di storie. Quindi il protagonista deve essere bianco. Se c'è il nero, come vedete nella foto della copertina, sta in secondo piano, anzi vedremo che ha un ruolo molto preciso. Secondo cliché che troveremo in questa carrellata che facciamo stasera, secondo cliché, questo bianco è un trombettista. Raramente è un pianista, c'è il caso del batterista nell'Uomo dal braccio d'oro di Otto Preminger, ma prevalentemente è un trombettista e ci dobbiamo chiedere perché un trombettista. Terzo aspetto, e la risposta ce la daremo più avanti, terzo aspetto, questo individuo deve essere, permettetemi il francesismo, sfigato. Cioè deve essere un personaggio tormentato, introverso e a rischio altissimo di fallimento nella vita. Perché? Perché deve essere una figura maledetta. Siccome il jazz è una musica dei bassifondi e i bassifondi sono un luogo di maledettismo, criminalità, prostituzione, droga, eccetera, anche l'anima pura che affronta quel mondo, bianca, pura e bianca ovviamente, che affronta quel mondo si ritrova poi a dover affrontare dei problemi, che però non sono solo i problemi di droga, di alcol o problemi sentimentali di vario tipo, ma sono proprio problemi di rovello interiore. Il bianco soffre, mentre il nero no, in questa visione, perché il bianco ha un'anima. Nella visione razzista, ancora del campo di cotone, il padrone degli schiavi ha un'anima, è bianco e quindi gioisce, soffre. Il nero per molto tempo non ha avuto un'anima, è dall'ottocento che gli si riconosce un'anima. E comunque la sua sofferenza è più una sofferenza elementare, animalesca, di colui che è costretto con la schiena piegata a lavorare e quindi ha il corpo che soffre, ma l'anima che soffre, il tormento creativo ce l'ha il bianco. Da dove cavolo viene tutta questa congerie di luoghi comuni? Beh, il protagonista ha a che fare con un personaggio di tutta questa storia che è storicamente esistito. E questo personaggio... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì, sì, abbassa un po' la luce, vai. Abbassiamo la luce perché tra poco arrivano i filmati, ecco. Quel lato lì è a rischio pennica, naturalmente, quindi è un po' pericoloso, grazie. Chi è il personaggio chiave? Il personaggio è il primo hipster cool, che ho definito, Big Spider Beck. Guardate la data di nascita, guardate la data di morte, un ragazzo morto molto giovane, morto, pensate, alcolizzato, cioè morire a 28 anni alcolizzato è una cosa terribile, personaggio tormentatissimo e che noi oggi conosciamo come il primo, guardate la data, il jazz nasce agli insi del Novecento, Big Spider Beck è stato il primo grande solista di jazz bianco, riconosciuto, di cui abbiamo una documentazione. Contemporaneo di Louis Armstrong, che era nato due anni prima di lui, i due si sono anche incrociati, Big Spider Beck è stato riconosciuto subito già in vita come un personaggio geniale ed eccentrico e un musicista originalissimo, a cui dobbiamo, questo lo dico, è il contributo più importante che lui ha dato, un'idea di jazz diversa. Mentre il jazz nasce come una musica espansiva, energica, che si proietta con forza, lo dicevamo la volta scorsa, corporeamente con un suono potente, Bigs è invece il musicista che introduce nel jazz una tonalità introversa, rivolta all'interno, lirica, cantabile, riflessiva e perfino tormentata. Perché Bigs obiettivamente era tormentato. E aveva un tormento che era al tempo stesso personale e sociale. Personale perché lui suonava jazz, ma ambiva ad essere un musicista, riconosciuto come un musicista classico, però aveva tutta una serie di sue fisime, adesso non sto a entrare nei dettagli, per cui per esempio non ha mai imparato a leggere la musica, ma non perché non ne fosse capace, si era proprio impuntato, non voleva. benché fosse anche un compositore, ha scritto dei pezzi per pianoforte, che lui suonava al piano e qualcuno trascriveva. Bigs quindi aveva una sorta di senso di inferiorità nei confronti di se stesso e della musica. Era un genio, ma non si riconosceva nella sua genialità. In più, socialmente, si sentiva rifiutato, perché per esempio la famiglia ha sempre trovato disdicevole il fatto che lui diventasse un musicista, in un'epoca in cui fare musicisti, soprattutto di jazz, voleva dire lavorare nei bassi fondi. In realtà lui poi era diventato una superstar, perché era andato a lavorare con la più importante orchestra da ballo del mondo, quella di Paul Whiteman, dove guadagnava una barca di soldi, tutti persi nel crollo di Wall Street, peraltro. Guadagnava una marea di soldi, ma la famiglia non accettava questa cosa, e quindi lui ha vissuto anche un rapporto tormentato con la famiglia, di cui l'alcolismo e tutto il resto. Ma c'è un altro problema ancora che ha a che fare col colore della pelle. Bigs appartiene alla prima generazione di musicisti che, attenzione, in una società che considera i bianchi superiori e i neri inferiori, e che proibisce il contatto fra i bianchi e i neri, appartiene a quella prima generazione di musicisti che vedono i neri e si innamorano della musica dei neri, dicono io voglio essere come loro, io voglio suonare come loro, io quasi voglio essere nero, che è un atteggiamento di rivolta antiborghese, antisistema, identico a quello del rock and roll degli anni 50. Io sono un adolescente, perché Bigs ha cominciato a suonare jazz a 16-17 anni, io sono un adolescente, e questo è uno dei motivi per cui non ha voluto imparare a leggere la musica, sono un adolescente contro le regole. Qual è il modo più estremo per essere contro le regole? Suonare la musica di quelli considerati gli ultimi della società. Quindi capite che nella biografia di Bigs e nella sua morte prematura, precocissima e tragica, ci sono effettivamente quegli elementi che abbiamo visto prima. Il conflitto interiore rispetto al tipo di musica che si suona e al proprio talento, il conflitto con la società, il problema del colore della pelle. Ecco, volevo farvi vedere un paio di foto di Bigs, proprio di ragazzino, come vedete qui, con altri ragazzini che registrano il loro primo disco. Suonava la cornetta, non proprio la tromba. E questo mito di Bigs Beiderbeck, da una parte si è in parte alimentato fra i suoi amici mentre era in vita, ma in realtà è poi esploso alla fine degli anni 30, quando nel 1938 una ex insegnante di scuola, scrive il suo primo romanzo che si chiama Young Man with a Horn, Dorothy Baker, eccola qui, che poi si affermerà da questo libro in poi come una delle più grandi scrittrici statunitensi del ventesimo secolo. Dorothy Baker è una gigantessa della letteratura americana e questo libro, il giovane con lo strumento, con lo strumento affiato, corno vuol dire corno, ma nel gergo del gergo vuol dire lo strumento, il giovane con lo strumento è una sorta di versione romanzata della vita di Bigs Beiderbeck. Questo libro, tra l'altro, è stato di recente anche tradotto in italiano e io ho rubato il titolo della mia conferenza al titolo italiano del libro, La leggenda del trombettista bianco. La traduzione non è impeccabile, ma se non avete letto questo libro, pubblicato oggi da Fazzi, ve lo consiglio perché è un magnifico libro sulla musica. Il libro della Baker fece sensazione perché rivelò, tra l'altro, una scrittrice di prima grandezza e Hollywood ne approfittò quando, nel 1950, fece una versione cinematografica del libro della Baker che si chiama Young Man with Horn con Kirk Douglas, Lauren Bacall e Doris Day che in italiano uscì con il titolo Chimere e il regista era l'ottimo Michael Curtis che una decina d'anni prima aveva colto meno di un successo clamoroso con Casablanca. Notate che ci sono due personaggi femminili, lo capiamo subito dal casting, c'è la donna affascinante e tentatrice che è Lauren Bacall e c'è invece che lui bacia sulla locandina appassionatamente e poi invece c'è la brava donnetta borghese di casa che è Doris Day. In basso si intravede Hoggy Carmichael che fu effettivamente amico personale di Big Spiderbeck e che compare nel film facendo l'amico del protagonista. Perché due personaggi femminili? Perché qui troviamo un altro elemento, un altro cliché del trombettista bianco e si comincia pure a capire perché parliamo di trombettisti. Il cliché è che il protagonista è diviso tra una donna tentatrice e la, pensate che cliché assurdo, insomma proprio di quelli logori, la donna tentatrice e la compagna rassicurante che rappresenta la famiglia. Inevitabile dire cosa sceglierà in un film hollywoodiano alla fine lui, io sceglierò il contrario. Però vabbè tra le due forse più Lauren Bacall. Però il personaggio vive questa diciamo questa lacerazione che è una lacerazione anche di tipo sessuale perché c'è la donna tentatrice che è sessualmente più eccitante e più coinvolgente. Ovviamente la donna della sicurezza è invece sessualmente meno evidente, meno presente. La tromba a questo punto diventa chiaramente, lo capirete meglio in un esempio successivo, una metafora sessuale. Come hanno spiegato vari studiosi, lo spieghiamo dopo, non voglio dire troppe cose prima, no, lo spieghiamo dopo. Guardiamo un pezzetto di film che è molto fedele, abbastanza fedele al libro, abbastanza fedele al libro, c'ha un lieto fine mentre Bix muore, il film e il libro finiscono in modo diverso. Dimenticavo che c'è di mezzo un nero, almeno un nero ce lo dobbiamo mettere in questi film del jazz, il jazz è la musica dei neri. Questi neri sono sempre interpretati da attori secondari, sono interpretati da personaggi secondari e hanno una funzione molto semplice, l'afroamericano che convalida. Cioè il nero non può essere protagonista ma siccome il jazz è stato inventato dai neri sta lì a dire al bianco bravo, tu fai del vero jazz, te lo dico io che sono nero. Come se c'è un pensiero razzista sotto se ci pensate, siccome sei nero automaticamente sei un bravo jazz, cioè sei autentico, non fa niente uno può essere pure nero, stonato, privo di qualsiasi senso del ritmo e dello swing, lo dicevamo la volta scorsa. Però invece in questa visione razzista il nero è naturalmente musicale e però non potendo essere protagonista appunto è lì a dire al bianco bravo tu sei così, oppure gli fa la coscienza critica da grillo parlante come vedremo qui. Vediamo una scena verso l'inizio del film, non vi non vi introduco perché si capisce da solo, il protagonista è un ragazzino. È evidente che lui è l'artista romantico e il nero è quello con i piedi per terra che gli dice lascia perdere l'arte perché lo vedi a cosa si porta e gli preannuncia la sua fine tragica. Credo che non ci sia molto da commentare, è molto evidente, compresa questa idea dell'ombra del nero che si proietta sul bianco prima la tromba, poi quando lui entra in stanza in questo dialogo di questa scena. Tra l'altro è interessante notare che perfino a livello di doppiaggio abbiamo una disparità. Io devo essere onesto non mi ricordo neanche il nome di questo attore nero che tra l'altro era un caratterista che ha fatto perfino l'indiano nei film western, pensate un po'. E il trombettista che lo doppia è un nome sconosciuto, mentre a doppiare Kirk Douglas era Henry James, uno dei grandi virtuosi della tromba. Ora, è chiaro che l'ispirazione è quella di Bix Biderbecq, resa leggenda, ma c'è anche un elemento storico che può essere reso leggendario. Ed è stato, come forse saprete, fatto proprio un film su Bix Biderbecq che è stato fatto in Italia dal Pupiavati nel 1991, che si chiama semplicemente Bix, è il risultato di una grande passione che Pupiavati ha sempre avuto per Bix Biderbecq, tra l'altro che con i soldi del film è riuscito a salvare la casa in cui Bix è nato a Davenport, nell'Iowa, facendola diventare monumento nazionale perché invece la stavano vendendo. Quindi ha avuto un ruolo molto importante in questo, Pupiavati. Come sapete Avati ha fatto diversi film sul jazz, tra cui una bellissima serie per la Rai che si chiamava Jazz Band. Ma Bix è la storia appunto di Bix Biderbecq e lo è in modo piuttosto fedele, come diciamo quel tipo di fedeltà che hanno proprio gli appassionati che cercano di restituire la verità del personaggio, con dei attori che hanno la stessa età, l'età giusta, le facce giuste. Il film è doppiato in italiano, anche se gli attori sono tutti statunitensi e la produzione statunitense. Qui è possibile vedere come la vita di Bix in effetti rientra in quel cliché, cioè di un giovane musicista che fa impazzire le folle e che però lui stesso è uno sbandato e si capisce, ha lasciato, lo vedrete. C'è una scena in cui il fratello lo va a trovare in albergo, lui sta un po' fuori, forse ha bevuto troppo, il fratello gli porta della roba ma gli rimprovera il fatto che la madre si preoccupa per lui e lui invece in un certo senso vuole abbandonare la famiglia e poi vedrete una scena in studio di registrazione estremamente veritiera e quindi qui vedete come i cliché del musicista maledetto in realtà rispondono in questo caso ad una realtà storica che Avati ha ricostruito molto bene. Il film fu accolto maluccio quando uscì nel 91 ma rivisto oggi invece mostra dei pregi che all'epoca non si notarono. Sì perché la Gennet aveva uno studio di registrazione proprio a fianco alla ferrovia e quindi registravano con l'orario ferroviario in mano, è incredibile ma è così. Avete visto come il carattere tormentato nonostante ci sia un fondo di verità però il film enfatizza questo rapporto della crisi con la famiglia. Ora il trombettista in crisi non è necessario che sia un trombettista, può anche essere un trombonista. C'è la leggenda del trombonista bianco ed è un film che rivisto oggi francamente mi sembra un po' mediocre, devo dire l'ho rivisto tempo fa veramente deludente, Paris Blues di Martin Ritt, il regista è un solido artigiano di Hollywood, che è una storia però ha una storia molto interessante. Praticamente è la vicenda di due espatriati, due gezzisti espatriati dagli Stati Uniti a Parigi che sono Paul Newman e Sidney Poitier, un bianco e un nero, che vivono la loro avventura di musicisti a Parigi dove incontrano due turiste, una bianca e una nera. La bianca starà con Paul Newman, la nera con Sidney Poitier e decidono, prendono poi strade diverse nella loro storia. I neri vorranno tornare negli Stati Uniti perché qualcosa sta cambiando in quel paese, i bianchi rimarranno a Parigi. Ma il nocciolo della faccenda è che di questi due musicisti, il protagonista lo si capisce anche dagli abiti succinti che porta addosso, cioè che non porta affatto, è un affascinante. Paul Newman che fa la parte di un trombonista jazz. A me verrebbe una battutaccia rispetto alla tromba, diciamo che è più lungo il trombone. Ma la verità è questa, c'è un elemento sessuale abbastanza evidente, fin dalla locandina, e Paul Newman fa la parte di un trombonista, indovinate un po', tormentato. Anche se Paul Newman non ha proprio l'area del tormentato, però fa la parte di un trombonista tormentato perché dove sta il suo tormento? Mentre il tormento di Chimere era tra la musica pop che era costretta a suonare il trombettista e il jazz che l'accusa musica che vuole suonare lui, il suo tormento è quasi vicino a quello di Bix Beiderbecq, cioè questo trombonista aspira a scrivere musica classica, magari mescolata al jazz, aspira a diventare un compositore importante, purtroppo fallirà in questo, aspira a essere un compositore, a fare musica, attenzione, scritta, che nel cliché del jazz vuol dire esattamente l'antitesi del jazz, cioè la musica classica. C'è una scena curiosissima, allora nel film ci sono, compaiono Louis Armstrong e Duke Ellington, la colonna sonora è scritta Ellington, ma compare anche Louis Armstrong e c'è una scena pazzesca in cui, brevissima, che vi faccio vedere, in cui Louis Armstrong arriva a Parigi in città e naturalmente lui, che è un fan di Armstrong, anche se il personaggio si chiama in un altro modo, lo va a prendere alla stazione e sale sul treno, la clip non ha sottotitoli perché non so perché mentre lo ripavo si vedevano malissimo, li ho tolti, comunque è facilissimo da seguire, sale sul treno, lo saluta, Paul Newman a Louis Armstrong e gli dice guarda ho scritto della musica, me la guardi? E lui fa wow, ha scritto la musica addirittura, no? Poi Armstrong la leggeva a malapena, figuriamo con questo spartitone davanti, questa partitura gigantesca e c'è questa cosa surreale in cui, doppiamente surreale, la prima appunto è Paul Newman che fa la parte del trombonista colto, che cerca la validazione, ancora una volta, del nero, che gli dice ok questo è buono, questo non è buono. Secondo, il più grande genio del jazz si ritrova a fare la comparsa a fianco a Paul Newman. Il film avrebbe potuto essere una storia, casomai, su Louis Armstrong, con Paul Newman che fa la comparsa, non il contrario. Tra l'altro, di fronte, di fronte alla, come vedrete, all'evidenza che Armstrong era un attore pazzesco, si ha perfino la lieve percezione che Paul Newman abbia una vera, un vero senso di, come dire, di timore reverenziale nei confronti di Armstrong, mentre Armstrong è scioltissimo. La scena è brevissima e merita di essere vista. È giusto un frammento, poi lui alla fine del film andrà da un importante docente di composizione che gli stronca tutto quello che lui aveva scritto. Tra l'altro avete visto la naturalezza con cui Armstrong recita? È una cosa di fronte a questo mostro dell'actor studio che era Paul Newman veramente impressionante. Ora, questo paradosso per cui Armstrong fa la parte secondaria tocca il culmine in un'altra storia di un trombettista bianco maledetto, ma maledetto nella finzione perché nella realtà non lo era. Allora, il titolo di questa slide è Meglio un trombettista bianco qualsiasi che uno nero, perché Hollywood ha fatto un film biografico su Lorin Red Nichols. E 99% di voi dirà, ma chi è Red Nichols? E la domanda è legittima. È un musicista assolutamente minore degli anni venti, che ha fatto delle cose interessanti, era un imitatore di Bix, ha fatto delle cose interessanti negli anni venti, poi ha passato tutto il resto della sua carriera nelle orchestre di studio della radio, a suonare la tromba in sezione radio. Basta, fine. I pochi dischi di qualità che ha fatto negli anni venti sono oggi ascoltati da un manipolo di cultori, di specialisti, diciamo così, che ci trovano in effetti delle cose interessanti. Ma per il resto Nichols non è una figura né centrale né direi neanche secondaria del jazz. Bene, Hollywood è riuscito a fare una biografia su un uomo privo totalmente di interesse, perché è un bianco e perché è trombettista. E chi fa la parte secondaria? Armstrong. Cioè in questo film il più grande trombettista della storia del jazz ha un ruolo ancillare rispetto a un signor nessuno del jazz. vedendo, tra l'altro, il film che Hollywood ha tratto dalla storia di Red Nichols, tra l'altro con uno spettacolare Danny Kay, The Five Pennies in italiano, i Cinque Pennies, era il nome del gruppo degli anni venti di Red Nichols, guardando il film si capisce finalmente perché stiamo parlando di trombettisti, perché l'elemento sessuale qui è fondamentale. Red Nichols ha una famiglia, ha dei figli, ma a un certo punto si innamora di una donna tentatrice. Guarda caso. La cosa però impressionante è che nel momento in cui si innamora di questa donna tentatrice non riesce più a suonare. E la metafora sessuale in una scena che adesso non vi faccio vedere, perché preferisco farvi vedere una scena musicale che è più bella, la metafora sessuale è evidente quando lui davanti alla famiglia e ai figli comincia a fare, attenzione, le note acute e non ci riesce. Sputacca, sputacchia, sbaglia le note, è stonato, non riuscendo a più esprimere la potenza fisica del suono acuto come metafora di potenza sessuale, vuol dire che lui sta in crisi. Ci vorrà una moglie fedele e paziente a riportarlo sulla retta via, e per permettere di risuonare finalmente gli acuti. Chiaro il messaggio? Il film è mediocre, ma contiene una scena spettacolare, che dovremmo vedere e rivedere per analizzarla bene. Ed è il momento in cui Red Nichols e Louis Armstrong, Danny Kaye e Louis Armstrong, si trovano in un club e candano When the Saints Go Marching In. In questa scena, io purtroppo non sono riuscito a mettere i sottotitoli, non ci sono i sottotitoli, neanche nell'edizione italiana, è pazzesca perché ognuno dei due gioca, fa dei giochi di parole sui nomi dei jazzisti, dei compositori classici. Cioè questi santi che marciano in paradiso sono Rachmaninoff, Fats Waller, Bach, anzi Bach, off and back, dice a un certo punto lui. Sono tutti giochi di parole sui compositori, con delle rime assurde tipo Do you dig Gustav Mahler? Conosci Gustav Mahler? Yes, but don't forget Fats Waller. Ma non su questa cosa così. Dopodiché vedremo la scena finale del film in cui il trionfante con i sovracuti Red Nichols trionfa con la sua famiglia e il nero valida, come dire, il suo ritorno tra le persone dotate della loro potenza sessuale. In tutto questo vi prego di apprezzare il ruolo sorprendente di Danny Kaye, che canta senza essere doppiato, insieme ad Armstrong e tiene testa ad Armstrong in una cosa spettacolare, da brivido, che ci fa rivalutare, non che sia mai stato sottovalutato, ma fa capire meglio la statura di questo grandissimo intrattenitore comico, cantante, oggi un po' dimenticato, di origine ebraica, che è davvero all'altezza di Armstrong. Vedere per credere. Grazie. E così anche Red Nichols è alla sua brava biografia, mentre ancora oggi Hollywood non riesce a fare una biografia della vita affascinante e avvincente di Louis Armstrong. Però sapete che c'è quella di Red Nichols. Ora, il modo di raccontare il maledettismo passa attraverso molti aspetti e uno degli aspetti iconografici del jazz, ovviamente il bianco e nero, gli ambienti fumosi, il club con le luci e le ombre soprattutto, che sono anche luci e ombre morali, naturalmente, di quello che avviene in questi ambienti sordidi e nella vita sordida dei personaggi. E c'è un altro personaggio che è stato, un altro trombettista bianco, che porta con sé lo stigma della leggenda del trombettista bianco, maledetta, e naturalmente Chet Baker, che ha anche lui un hipster come Bix Biderbecke, di cui è una sorta di naturale prosecutore, di naturale erede dalla vita più lunga di quella di Bix, ma non meno tormentata, tra alcol, droga, donne e talento e dissipazione, eccetera. Come sapete, il fotografo Bruce Weber nel 1988 diresse un documentario dedicato a Bix Biderbecke. Noi adesso ne vediamo un pezzetto, che secondo me è illuminante, perché questo documentario, che io personalmente non amo molto, proprio perché è una specie di catalogo del maledettismo nel jazz, cioè sembra che Bix Biderbecke non abbia mai, scusate, che Chet Baker non si sia mai fatto una risata in vita sua, cioè è proprio molto, dove anche vedrete il bianco e nero all'inizio lui viene intervistato e fatto apposta proprio per creare questo senso di torbido, di oscuro, però è impressionante come la realtà e la fantasia si incrocino. Non vi anticipo niente, guardate l'intervista alla mamma, sembra uscita dal film di Pupiavati, c'è un'intervista alla mamma di Bix Biderbecke. E poi c'è uno sceneggiatore verso la fine della clip che racconta come, essendo uscito il libro di Dorothy Baker, Young Man with a Horn, altri scrittori erano stati, come dire, ispirati a scrivere altre storie maledette e avevano fatto un film ispirato allo stesso già Chet Baker negli anni 50 dove c'è il giovane ribelle che invece di essere un uno che fa rock'n'roll suona jazz ed è Robert Wagner in questo film scritto da questo sceneggiatore che si chiama Those Young Like, quei giovani, Young Cannibals, quei giovani cannibali, Robert Wagner che è appunto bello, biondo e prestante esattamente come Bix e in certa misura anche Chet Baker. Guardiamo questa clip. All the fine young cannibals. È incredibile come ci sono i cliché del cinema nel cinema, cioè già Baker vivente lui era diventato un'icona di ribelle interpretata da un altro attore che fa la parte del ribelle, lo stesso Baker come ci racconta questo scioneggiatore aveva letto il libro di Dorothy Baker e quindi in qualche modo forse si identificava anche con la figura di Chet Baker e l'intervista alla madre è impressionante, sembra di sentire la madre di Bix Beiderbeck che ama il figlio ma al tempo stesso ne è profondamente delusa. Prima di arrivare alla conclusione c'è ancora una piccola cosa che voglio mostrarvi, molto particolare. Come avete visto, il nero del film di Bruce Weber è un nero fotografico, non ci sono dei neri degli afroamericani perché la musica di Chet Baker è legata a un ambiente di jazz bianco e questo maledettismo, come vedete, continua ad appartenere ai trombettisti bianchi. Poi esiste anche un maledettismo nero, per esempio penso a Charlie Parker, su cui Clint Eastwood ha fatto un film molto importante e molto discusso. Però indubbiamente, come vi ho detto, il trombettista maschio bianco ha nella sua vulnerabilità e nel film di Bruce Weber è evidente, una sorta di ambiguità sessuale. Cioè Chet Baker al tempo stesso, l'avete visto, un bambino e un maschio adulto con due donne sulla macchina e poi è un bebè nelle foto della mamma e poi invece è un, come dire, una icona, ribelle, bello nei film, sia che sia lui interpretarli, sia che sia qualcun altro. Quindi c'è questo polimorfismo sessuale, se posso usare questa espressione a quest'ora a Firenze qui dentro, però è effettivamente un elemento chiave proprio perché la tromba, insomma, alla fine ha un significato fallico. Però la questione del colore è fondamentale e viene affrontata in modo, a mio avviso, geniale da un grande regista che è John Cassavetes nel suo primo film che si chiama Ombre, Shadows, nel quale, un film famoso perché la musica doveva essere scritta, poi di fatto non lo fu, scritta da Charles Mingus. E la cosa affascinante, vabbè, la colonna sonora avrebbe vari problemi, qui ci sono delle foto con Mingus e Cassavetes che ebbero anche delle discussioni in studio mentre giravano il film, poi alla fine Cassavetes chiese al solo sassofonista di Mingus, mentre gli descriveva delle scene, di suonare, ma la cosa interessante è un'altra, e cioè che nel film ci sono tre protagonisti, i tre protagonisti sono tre fratelli, che sono però interpretati da un'attrice bianca, con un cognome italiano tra l'altro, un attore afroamericano e un attore bianco con la faccia è una faccia pittata di nero, come ai tempi del Minstrel, fatta apposta, cioè provocatoriamente pittandogli la faccia di nero come negli spettacoli teatrali razzisti dell'Ottocento. E i tre sono fratelli, ed è una storia in cui la ragazza si innamora di un bianco, cosa che non fa molto piacere, anche se lei è chiarissima, anzi è bianca, però nel film passa per essere una nera dalla pelle chiara, cosa che non fa piacere a Hugh, al fratello, e nel frattempo Ben e Leila, Hugh e Ben, e sono i nomi degli attori tra l'altro, veri, Ben è un trombettista di jazz che non suona mai nel film, adesso non abbiamo il tempo, c'è una breve scena in cui i tre parlano insieme sul letto, una mattina, e lui ha questa tromba in mano, dice che vuole andare a suonare in un certo posto, poi fa due note con la tromba e finisce lì, però è significativo che sia un jazzista, guarda caso trombettista, e che sia però interpretato in questo caso, questo jazzista tormentato, da un bianco, ma Cassavetes provocatoriamente gli pitta la faccia di nero, per far esplodere tutte le contraddizioni del discorso razziale negli Stati Uniti nel 1959, lo fa in questo modo straordinario. Arriviamo alla parte finale della nostra chiacchierata, come vedi abbiamo tantissimi esempi di musicisti bianchi, trombettisti con questo cliché, pensate che questo cliché è talmente forte che è andato a, come dire, inquinare, se mi permettete il termine, anche il cinema di un grande regista afroamericano che ha utilizzato in modo straordinario gli attori afroamericani e la musica afroamericana, e mi riferisco a Spike Lee, il cui film Mo' Better Blues, del 1990, dove lui stesso, Spike Lee, interpreta il manager del protagonista Denzel Washington, è la storia di, tenetevi forte, di un ragazzino che diventa trombettista, e vedrete la scena in cui diventa trombettista, è uguale a quella di Chimere, anche se siamo in mondo afroamericano, poi tra l'altro c'è un uso particolarissimo della musica, nel senso che la musica di Terence Blanchard è doppiata, cioè visivamente, gestualmente dai musicisti in modo perfetto, sono addestrati, non la suonano loro, ma sembra davvero che la suonino loro, però è la storia di questo trombettista, trombettista, che a un certo punto è in crisi, perché lo si vedrà nella prima scena, nel gruppo si creano, guarda caso, delle tensioni di tipo sessuale, cioè il sassofonista tenore, che è interpretato dal bel spalle larghe Wesley Snipes, rispetto a Denzel Washington, che è più piccolino, suona più a lungo, quindi è sempre quell'elemento sessuale competitivo che c'è nelle jam session del jazz, suona di più, suona più forte, quindi dura di più, eccetera, eccetera. E poi Denzel Washington si innamora di una donna, vedete che ci sono, come nella locandina, come nella locandina di Chimere, è incredibile, ci sono due donne, c'è la donna tentatrice e c'è il vero amore. Lascio a voi decidere dallo sguardo chi è la donna tentatrice e chi è il vero amore. E indovinate un po' quando lui comincia ad andare con la donna tentatrice, non riesce più a suonare, ma tu guarda. Quindi è incredibile che questo film, che pure ha un approccio al mondo del jazz tra i più veritieri che ci siano, cade clamorosamente su questo tipo di cliché. Noi guardiamo un pezzetto dell'inizio e poi andiamo sull'ultima clip, dove scopriremo una cosa diversa, tanto per vedere l'incredibile somiglianza, a partire dalla locandina, con Chimere. Un film che secondo me Spike Lee detesta, però è così. Come vedete il cliché del trombettista ne bianco diventa parte anche del mondo afroamericano, da parte di un regista afroamericano. Come si esce da questi cliché? Se ne può uscire. È un esempio, è un film che non ha avuto alcun successo, che è stato massacrato dagli appassionati più che dalla critica, e che io invece trovo a essere un grande film. Ed è la biografia di Miles Davis, fatta da Don Cheadle. Il film, non so che succede perché non prende più, va bene, lo faccio da qui. Ah, semplice, l'avevo spento. Si chiama Miles Ahead, è un film del 2016, con Don Cheadle che è protagonista e regista del film, e Ewan McGregor. Questo film era molto atteso, ed è stato, era atteso perché era la biografia di Miles Davis. Oggi lo potete vedere su iTunes, sulle piattaforme, vi consiglio di vederlo rigorosamente in inglese, con i sottotitoli, perché il lavoro di Don Cheadle sulla parola, sul suono della voce di Miles Davis è straordinario. Ahimè, la mia clip, di nuovo, non ha i sottotitoli, perché non venivano colorati, non si leggeva niente, quindi ve la faccio vedere senza sottotitoli, ma vi spiego che cosa succede. La storia, il film quando esce, delude tutti. Perché? Perché Don Cheadle, pur utilizzando dati reali di Miles Davis, alcuni episodi della sua vita veri, in realtà si inventa tutto. Ma fa un'operazione, a mio avviso, straordinaria. Inventandosi tutto, tocca la verità, che è quello che spesso succede al cinema. Evita i cliché, anzi, lui gioca sui cliché, perché sapete cosa è il film? Il film ha due registri. Allora, la storia è quella di Miles Davis, che nel periodo in cui non suona più, tra il 75 e l'82, 81, nel periodo in cui non suona più, è chiuso in casa. Gli rubano un nastro, dove ci sarebbe della musica pazzesca che lui ha registrato in quel nastro. Vuole recuperare questo nastro. e si ritrova con un giornalista bianco, che è Ewan McGregor, con cui, insomma, involontariamente se lo ritrova questo rompiscatole a fianco, e insieme comincia l'avventura, la ricerca di questo nastro. Quindi, anzitutto, è un buddy movie, come 48 ore di Walter Hill, dove c'erano Eddie Murphy e Nick Nolte, qui ci sono Don Ceddle e Ewan McGregor. E c'è una commedia di due che non si sopportano. Secondo registro, il film è un noir, neanche un noir, è un gangster movie, anni 70, in stile Don Siegel, per esempio, tipo Contratto per uccidere, non so se avete visto, Chi ucciderà Charlie Varric, o anche Black Exploitation, per certi versi, dove Miles Davis va in giro con la pistola, spara, ci sono gangster, sparatori, inseguimenti di macchine, cose che a Davis non sono mai successe. Ma raccontando questa storia con un registro gangsteristico, Don Ceddle, per esempio, fa venire fuori tutto il mondo, marcio, del jazz, vero, gangsteristico. Vi faccio vedere, e vado alla conclusione, una sequenza che c'è all'inizio, per capire cosa succede in inglese senza sottotitoli, vi spiego rapidissimamente, vi aiuto anche a tradurre la sequenza. Praticamente questo giornalista bianco si è intruffolato in casa di Davis, facendo finta di essere un intervistatore, che vuole sto nastro. Davis si accorge, dice, ah ma secondo me sei un truffatore, e vanno alla Columbia, la casa discografica di Davis, dove gli dicono, noi questo qui non lo conosciamo, non l'abbiamo mandato noi, non l'abbiamo mai autorizzato. Davis si sta per incazzare quando viene fuori una storia sui soldi, perché la Columbia fa i dischi di Davis, e siccome viene fuori questa storia del nastro che dovrebbe diventare il disco, il tipo della Columbia dice, ma noi ti abbiamo sempre rispettato, ti abbiamo sempre pagato. A un certo punto entra un avvocato, gli dice, calma Davis, noi siamo i proprietari della tua musica, noi abbiamo la tua musica. a quel punto Davis si incassa e spara a questo tipo per intimorirlo, gli spara a fianco e poi gli dice, basta, allora pagami, e dice, mi devi un sacco di soldi, e gli si fa dare una parte dei soldi che è in tasca. Dopodiché, c'è un tizio che è lì, che faceva anticamera, che vuole presentare a Davis un ragazzino che è un trombettista di talento. Chiaramente, il manager del ragazzino è un mezzo mafioso, si vede così. E questa è la realtà delle cose. Il manager è un mezzo mafioso, non tutti i manager sono dei mezzi mafiosi, ma ancora negli anni 70, i manager, alcuni manager erano dei mezzi mafiosi, nel mondo del jazz, il rapporto tra case discografiche e artisti neri, era un rapporto di forza in cui gli artisti neri soccombevano, a meno che non eri Miles Davis, e l'unico modo per farti rispettare era esercitare una qualche violenza. Davis non ha mai sparato a nessuno, ma in questa sequenza, che sembra un film di gangster degli anni 70 alla Martin Scorsese, c'è più verità di tutti i film sui trombettisti che abbiamo visto fin qui. Ovviamente la musica di Davis fa da sottofondo per tutte le... Wait, we're going to Columbia? Miles, come on, man! E finisce quella sequenza. È una sequenza straordinaria, adaltro il film va avanti e indietro nel tempo, gioca appunto con diversi piani temporali montato in modo magistrale. Don Cida è incredibile nel ruolo di Miles Davis, ma questo film non è piaciuto a nessuno. Perché? Perché non c'è il Santino, non c'è Sam Miles Davis con l'aureola, non c'è il maledetto che soffre, che si droga perché non trova la nota giusta, perché è maledetto, perché... no, c'è uno che vuole recuperare il suo nastro perché lì ci stanno i suoi soldi, sostanzialmente. E' uno attaccato ai soldi, attaccato al potere, attaccato alla sua arte e vuole trattarla nel migliore dei modi possibili. E cosa fa Ciddle? Fa una cosa semplice, si rifà ai generi cinematografici. E quindi, ignorando la, tra virgolette, verità, che anche nel caso di Chet Baker poi finisce nel cliché, affidandosi ai generi riesce a toccare una verità e a uscire dal cliché del trombettista maledetto e a raccontarci una verità più profonda. Solo che per capirlo bisogna dimenticare la verità biografica o mitica di Big Spider, di Chet Baker o di Red Nichols e affidarsi al linguaggio del cinema. Cioè, in altre parole, quello che voglio dire è che è inutile che cerchiamo nel cinema una verità delle cose. Il cinema è cinema, la vita è un'altra cosa, la storia è un'altra cosa ancora. Quindi bisogna imparare a interpretare la realtà attraverso il linguaggio del cinema e Don Ciddle ci riesce. Se interpretiamo il suo Miles Davis attraverso il linguaggio del cinema scopriamo delle verità più profonde. È per questo che ho messo la leggenda del trombettista bianco con un nero alla fine. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho smesso di guardare i film di Tornatore dopo quel film. Sono in profondo disaccordo ma siamo in una serata amichevole e quindi in un western le direi vediamoci fuori come Miles Davis tiro fuori la pistola. Però no prego prego no scusate prego scusi mi scusi. il film mi è piaciuto per la sua magneloquenza un po' fasulla da vorrei essere Sergio Leone e non ci riesco che le carrellai gli dolli tutto questo respiro che vorrebbe essere profondo in realtà è solo fintamente magneloquente ma la sequenza mi perdonerà se sono un po' brusco la sequenza del duello pianistico la trovo particolarmente volgare perché tra l'altro innanzitutto il novecento viene suonato da un computer e questa cosa si sente mentre il gelero morto viene suonato da un vero pianista il novecento viene suonato da un computer e questa cosa si sente ed è veramente molto brutta il gioco delle mani che si moltiplicano è di una volgarità incredibile cioè cosa cosa manca in quella sequenza la musica neanche tanto non sono troppo sicuro che sia ironico quando tu metti un computer al posto di un essere umano per far vedere che lui è più bravo non c'è non c'è la musica non c'è neanche la spavalderia non c'è 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 una cosa finta c'è una cosa finta dove l'ironia in realtà è qualcosa di a mio avviso che manca di gusto che è greve come un po' tutto il film peraltro non ti piace Tornatore no mi è piaciuto Tornatore fino a quel film poi ho smesso come i film di Ridley Scott dopo aver visto cosa è stato Le Crociate l'ultimo insomma poi arriva un momento in cui nella vita uno fa altro diciamo così piuttosto che vedere due ore di un film di Tornatore ore di Ridley Scott tutto qua nuovo cinema nuovo cinema a me è piaciuto molto sì sì no 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 e guarda è un dettaglio che ho notato anch'io per la prima volta adesso ho visto quella ho fatto spesso questa conferenza ho visto quella sequenza tante volte non mi ero mai accorto no e non è come dici tu se te la riguardi loro battono sul 2 e sul 4 correttamente per quasi tutta la sequenza ma in alcuni punti del montaggio in particolare quando è di lato sulla balconata laterale c'è un momento in cui battono sull'1 e sul 3 poi c'è il taglio e tutti battono sul 2 e sul 4 quindi o l'uno o l'altra quello probabilmente è un errore un piccolo discrepanza lì ci voleva la segretaria di edizione che sa qual è la differenza fra il 2 e il 4 ma insomma ho l'aiuto regista insomma siamo a livelli forse eccessivi sai sono come sono come quelli no io ho notato questa cosa che correttamente batto sul 4 solo in una inquadratura battono sul 1 e sul 3 però sai come quelli che poi quando vanno a vedere un film storico dicono eh ma quella pistola nel 1847 non esisteva è un po' una cosa così volevi dire qualcosa no ammiccavi ammiccavi e allora quale film ah l'hai visto ti è piaciuto sì mi è piaciuto ma cosa ho visto perché è un momento che è tutto vero no però praticamente non parla di niente cioè c'è questa musica un po' di rosa e forse si sente allora si chiama io adesso non voglio svelare si chiama anche quella è una tecnica è una cosa che ci ha spiegato Hitchcock come funziona il il vabbè non è un giallo quindi sì un po' lo è però insomma il nastro alla fine lo trovano e dentro non c'è niente ok Hitchcock ha spiegato che cos'è questo meccanismo narrativo lui lo chiama MacGuffin che è un nome tipo finto scozzese che non vuol dire assolutamente niente il MacGuffin è tradotto in italiano la scusa cioè è il motore della storia che non ha nessun valore narrativo se non mettere in moto la storia cerchiamo questo nastro e poi in poi cosa racconta il mondo del jazz il mondo del gangsterismo il rapporto fra loro due eccetera la musica il rapporto che Miles Davis ha con la sua musica col suo ambiente eccetera tutto è mosso da un pretesto il MacGuffin è il pretesto ed è una cosa che c'è spesso in Hitchcock cioè il pretesto che poi non ha alcuna rilevanza come Marion che ruba i soldi all'inizio di Psycho e ti aspetti che chissà che cosa debba farci con quei soldi è solo un pretesto per arrivare al motel Bates e ai lei incontrare Norman Bates Anthony Perkins e lui lo chiama nell'intervista a Hitchcock lo chiama il MacGuffin cioè dice un personaggio che non è niente è una scusa può essere un personaggio può essere un oggetto chi ha visto e spesso racconta anche la vanità delle cose chi ha visto il Falcone Maltese per esempio il primo film di John Huston in cui c'è un gruppo di persone che si accapiglia e si ammazza letteralmente per ottenere questo oggetto questo oggetto è un oggetto apparentemente che dovrebbe avere chissà quale valore mitico e invece alla fine è una statuina priva di qualsiasi valore ma serve a raccontare una storia è esattamente la stessa cosa di fronte al MacGuffin tutti annichiliti va bene grazie arrivederci grazie 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 grazie